Le imprese aretine, dopo il rallentamento tra il 2012 e il 2014, tornano a crescere con un passo più spedito. Nel terzo trimestre 2015 il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni non d'ufficio è infatti positivo per 108 unità, tornando nuovamente sopra le 100, anche se ancora non sui livelli antecedenti al 2012. Il miglioramento è dovuto sia ad un aumento delle iscrizioni che alla diminuzione delle cessazioni. In particolare, per quanto riguarda le nuove imprese, dopo il livello minimo di natalità ha fatto registrare nel terzo trimestre dello scorso anno, nel 2015 si ha un'evidente ripresa delle nuove iscrizioni. Al 30 settembre la consistenza delle imprese registrate in provincia è di 38.051 unità, di cui 10.504 sono artigiane. Tra le varie forme societarie, le società di capitale sono sempre il motore della crescita imprenditoriale. Nel terzo trimestre sono cresciute di 73 unità. Sono in calo rispetto ad un anno fa le imprese dell'agricoltura, meno 2%, del manifatturiero meno 0,3%, delle costruzioni del commercio e dei trasporti, meno 2,4%. Al contrario, aumenta il numero delle aziende del vasto e articolato comparto dei servizi, quelli di alloggio più 4,2%, ristorazione più 2,8%, attività finanziarie assicurative più 2,4%. La sostanziale stabilità imprenditoriale non trova ancora conferma dal punto di vista occupazionale. Gli addetti complessivi delle imprese si attestano a 116.833, in diminuzione dello 0,9% rispetto a un anno fa. 8.991 sono invece le imprese femminili, che rappresentano il 23,6% del totale delle aziende iscritte al registro delle imprese. Sono invece in diminuzione rispetto al 2014 le imprese giovanili, che si attestano a 3.483. Le imprese straniere sono quelle che crescono di più, più 6,6%. Il 10% delle imprese retine sono in mano agli stranieri e dal punto di vista settoriale le presenze più significative si hanno nelle costruzioni, 34,5%, e nel commercio, 23,2%.